1.059 cittadini firmatari di una petizione perderanno la sezione mista della scuola per l'infanzia Santa Maria delle Grazie di Agropoli. L'ufficio scolastico provinciale di Salerno ha deciso di chiudere una delle sei sezioni del plesso scolastico agropolese. In un momento così delicato per il mondo della scuola, dove ancora oggi c'è tanta incertezza per il ritorno fra i banchi di scuola, proprio per assicurare la distanza e le norme anti-covid, l'ufficio scolastico provinciale di Salerno prende questa decisione. Le parole rassicuranti che qualche mese fa il governatore della campagna, Vincenzo De Luca, aveva comunicato per assicurare la risoluzione del problema, ad oggi non sono state efficaci per impedirne la soppressione. L'ufficio scolastico provinciale di Salerno ha deciso, la sezione sarà chiusa. Abbiamo contattato Chiara Izzo, mamma e rappresentante del circolo didattico Santa Maria delle Grazie, che ha denunciato questa situazione attraverso una lettera scritta. Siamo delusi, amareggiati, siamo arrabbiati. Abbiamo saputo della conferma della chiusura della sesta sezione e questa cosa ci spinge comunque a continuare, a non arrenderci. Ci abbiamo creduto seriamente quando il presidente De Luca, dopo il nostro breve incontro, ci ha citato in video, ha chiamato sul cellulare promettendoci un interessamento, ma evidentemente gli interessi economici, dei tagli all'organico sono stati più importanti del diritto della salute nei nostri figli e questa cosa ci lascia perplessi. Però ci spinge a continuare, a batterci per questo diritto. In tempi di Covid noi non accettiamo queste classi pollaio, questa incertezza e continueremo a disturbare, a vigilare e a pretendere quello che per noi è un diritto anche alla luce dei numeri. Abbiamo i numeri per tenere tutte le sezioni aperte e pretendiamo la conferma di queste due insegnanti. C'è ancora un margine di tempo e speriamo, in una revoca di questa decisione, in una smentita della nostra rabbia. Speriamo che ci stiano a sentire, perché adesso non è più tempo di diplomazia, è tempo di farci sentire e noi ci stiamo, nonostante l'amministrazione comunale non sia comunque esposta e non ci abbia fino adesso appoggiato più di tanto. Spero invece che prendano posizione e che ci aiutino in questa battaglia, perché è un bene per la città, è un bene per tutti, l'istruzione dei nostri figli e la salute all'interno delle scuole, i nostri figli in questo momento è una priorità.